E' polemica dopo l'aggiornamento del piano ospedaliero campano, lo strumento con il quale vengono ripartiti i servizi sanitari ospedalieri ai cittadini. Sul fronte sele e calore, infatti, su circa 797 posti letto pubblici ospedalieri spettanti e da ripartire tra gli ospedali di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Roccadaspide, ne vengono riconosciuti solo 442, una cifra che ha fatto infuriare il segretario della Fisi, Rolando Scotillo. Questo piano ospedaliero, afferma, è un atto unilaterale di un commissario ad acta nelle vesti di un piccolo dittatore, che a spese dei cittadini dispensa deroghe e favori, dimenticando i limiti del suo potere. Valuteremo il da farsi con i comitati territoriali e le forze politiche che vorranno rivendicare i diritti dei dimenticati.